Credo che ci sia un equivoco enorme sulla maternità. Non voglio dar lezioni, probabilmente adesso sembra che io stia parlando sia una pazza che dice cose che non hanno senso, invece per me ne hanno molto, e poi le dico, questo credo che sia proprio il luogo dove dirci queste cose. È il motivo per cui mi ha fatto molto piacere partecipare a questo progetto, perché non si parla mai delle donne senza figli, non si parla mai delle donne diverse dalle altre, diverse dalla massa delle altre donne. Io credo che un figlio sia un lusso enorme, e non dal punto di vista economico, anche se ormai è un lusso anche da quel punto di vista, ma credo che sia un lusso perché non è per tutti fare la madre, non è per tutti fare il genitore in linea di massima, penso, però adesso stiamo parlando di donne, quindi i padri li lasciamo proprio da un'altra parte, non ce ne frega niente, non ce ne occupiamo. Parliamo di donne, non credo che sia da tutti fare la madre.